Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial ti spiego come eliminare questo file che si nasconde nel nostro sistema nel disco principale del pc, quello dove hai il sistema operativo sul disco, ovviamente il file si chiama page file più library fill, questi due file, ovviamente in passato ho realizzato una guida giorni fa su come eliminare questi due file pesantissimi, però si nascondono alle cartelle, quindi si nascondono all'esplora risorse, all'opzione esplora risorse, se tu vai su opzioni esplora file, vai su visualizzazioni, visualizza cartelle file e unità nascosti, nascondi i file protetti di sistema consigliato, togliete la spunta da qui e appariranno così le nuove cartelle nascoste al sistema, scendi fino a giù e qui troverai i due file, per eliminare questi due file devi andare su visualizza impostazioni di sistema, vai su impostazioni, avanzate, cambia, togli la spunta che stiscia automaticamente dimensione file e metti quest'altro, nessun file, metti imposta così, clicchi qua sopra e poi metti imposta, proprietà del sistema e fai sì, una volta fatto devi riavviare il tuo sistema operativo, una volta riavviato potrai cancellare tu stesso questo file, io ovviamente ho tolto 27 gigabyte di file, di quelli là e ho recuperato un po' di spazio e li puoi cancellare senza problemi, quindi se questo video ti è stato utilissimo su come cancellare il file page file iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!